Una nuova batteria ad energia elettrica manterrà in funzione gli aerei che atterrano l'aeroporto d'Abruzzo senza dover più ricorrere all'inquinante motore diesel. Oggi presentiamo un GPU che è un alimentatore 100% elettrico, va a sostituire un alimentatore carburante diesel che mantiene in vita gli aeroplani a motori spenti. Questo prima avveniva attraverso questa attrezzatura a diesel. Oggi abbiamo la possibilità di avere questa mega batteria 100% elettrica. Si tratta del progetto Adrigreen che vede coinvolti i porti e aeroporti italiani e croati ed è finanziato dall'Unione Europea con l'intenzione di rendere i trasporti sempre più ecosostenibili. Noi siamo diciamo quelli più inquinanti per cui dobbiamo andare verso una direzione carbon free e queste sono tutte iniziative e azioni volte ad arrivare a una mobilità sostenibile. Non è la prima perché il nostro scalo si è già dotato di altri mezzi di traino 100% elettrica e non sarà l'ultima perché siamo anche pronti a copartecipare e cofinanziare altri progetti del genere. Il numero degli aerei che giungono all'aeroporto d'Abruzzo è stato limitato dalla pandemia. Se l'anno prossimo confermassimo le rotte del 2021 senza ulteriori ostacoli, ha dichiarato il presidente Catone, questo sarebbe già un bel traguardo. I numeri sono tremendamente viziati dalla pandemia, abbiamo avuto un'ottima ripartenza sulla summer 2021 e una flessione negli ultimi 30-40 giorni. Io mi riterrei soddisfatto se riusciamo a consolidare tutti i voli e le frequenze presenti nella stagione 2021 e magari con qualche sollievo dalla pandemia migliorare i numeri dei passeggeri.